Siamo qui con Carla Comba, giocatrice argentina dell'NC Milano. Tu, Carla, sei la prima giocatrice argentina nazionale del capito italiano. Emozionata per questo? Sì, veramente emozionata perché è la mia prima volta qui in Italia facendo un'esperienza nella Serie A. Quindi sono felice di giocare insieme a giocatori come Giulia Gorlero, come Eugenia e anche l'altra squadra che abbiamo un centro, un portiere, tutti insieme facciamo una bella squadra. Ti siete portati qua a Milano, in Italia? Allora, sono arrivata qui cercando di migliorare il livello in Argentina e grazie al mio allenatore da nazionale che mi ha portato qui in Italia, che ha cercato questa squadra. Per il futuro, per l'Argentina, cosa sono? Di arrivare qualificato all'Umpiadi a Tokyo 2020? No, è meglio prima arrivare a un mondiale, che mai abbiamo giocato un mondiale con l'Argentina, quindi aspetto arrivare insieme a loro, un mondiale. E magari domani essere anche capitano? Sì, 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 quello sì. Grazie a tutti, un saluto a Lorenzo Partiti. Ok, grazie.